buongiorno ben ritrovati cari telespettatori di fano tv questa è la rassegna stampa occhio ai giornali che come tutte le mattine apre l'informazione locale sul canale 17 allora cominciamo dal santo di oggi ma in realtà la chiesa oggi ricorda la dedicazione delle basiliche dei santi pietro e paolo il sole sorto alle 7 06 tramonterà alle 16 e 40 il tempo oggi è una giornata grigio oggiosa con tempo perturbato infatti abbiamo cielo nuvoloso nelle zone interne irregolarmente nuvoloso nel resto della regione con alternanza di schiarite annuvolamenti più intensi abbiamo precipitazioni sparse anche nelle zone montane nel settore centro settentrionale della regione con possibilità di rovescia ridosso dei rilievi ma il tempo è insomma è perturbato anche lungo la costa le temperature sono in aumento specie nei valori minimi per quanto riguarda la giornata di domani vedete non è che migliora granché anzi peggiora avremo precipitazioni sparse sia nell'entroterra che lungo la costa soprattutto durante il mattino le temperature in lieve diminuzione le minime stazionare le massime per domenica c'è un miglioramento con un cielo che sarà parzialmente nuvoloso con addensamenti più consistenti nelle zone montane le precipitazioni a parte qualche breve isolato piovasco nel settore montano della regione per il resto dovrebbe essere cielo sereno o comunque poco nuvoloso le temperature senza variazioni di rilievo probabili condizioni di tempo stabile sulle marche per gran parte della prossima settimana il resto del carlino la pagina principale l'edizione di pesero la fine di un mondo la tragica fine la tragica morte del gioielliere libero caldari simbolo di una città che è provata dalla crisi e dal cambiamento troppe tasse ed incognite per il futuro dice l'amico marcucci pinoli sabato ci saranno i funerali del gioielliere che lo ricordiamo si è tolto la vita l'altra mattina intorno alle otto e tre quarti nel suo negozio nella sua gioielleria alle porte del corso di pesero ospedale unico la sfida di seri si voti su muraglia oppure su chiaruccia arrivati archiviato fosse sei ore sarà guerra di tutti contro tutti fano alza subito la voce anziano va zig zag sulla 14 ero uscito per gettare l'immondizia si schianta vicino a pesero ma rimane rimane illeso entriamo allora a vedere le pagine interne oggi una giornata importante per fano perché arriva il presidente del senato grasso per la cittadinanza onoraria a questo neonato questo bambino che è nato su un barcone quindi diventerà cittadino italiano un cittadino fanese arriva grasso per questa cerimonia divan che questo bambino è pronto da oggi sarà un bambino fanese il presidente del senato sarà il teatro della fortuna oggi accoglie dunque la città di fano dopo laura boldrini anche il presidente del senato pietro grasso alle 16 30 la cerimonia si svolgerà al teatro della fortuna dove sono protagonisti dove protagonisti saranno i bambini poi ex zuccherificio quel lettero e mezzo che nessuno vuole andata deserta anche la seconda asta possibile sconto di 200 mila euro il prezzo era di 2 milioni a san paterniano invece la campana della misericordia sarà issata lunedì sarà issata lunedì mattina nel campanile della basilica di san paterniano dopo 20 anni torna ad essere completato il concerto di 5 campane di bronzo appunto della basilica di san paterniano museo archeologico sempre sulle pagine del carlino fano si infiammia la polemica fanno 5 stelle attacca ci hanno detto solo bugie fitta corrispondenza trancona e amministrazione fanese poi troppi hotel chiusi sempre dalla pagina di fano il comune in campo interviene l'assessore paolini dunque se fano vuole essere città turistica non può avere permettersi il lusso di tenere troppi alberghi chiusi l'esempio del litorale del lido scrive il giornale questa mattina la spiaggia per antonomasia dei fanesi definita nei decenni scorsi come il salotto buono è alquanto eloquente a fronte di quattro alberghi ce ne sono tre chiusi e uno il plaza che nell'ultima stagione aveva ospitato dei rifugiati extra comunitari ha fatto anche ha fatto tappa anche a fano il comitato del no di forza italia con tanto di fotografie la vedete in piazza 20 settembre è stato presentato il comitato del no coordinato da stefano mirisola la pagina invece di fano e vale del cesano rispettate il va rispettato il parere dei cittadini sulla fusione colli al metauro interviene l'assessore regionale mirco carloni e il voto per la fusione tra i comuni e quindi dice il risultato del referendum per colli al metauro ha espresso una netta contrarietà e pertanto va fermato il processo di fusione senza andare contro la volontà popolare e da cartoceto invece referendum non ignorati bernasconi residenti avrebbero voluto esprimersi critiche al sindaco rossi silenzio sul progetto colli del metauro poi insomma colli al metauro del metauro si fa un po di confusione ricci e seri passiamo al corriere adriatico ricci e seri ormai alla sfida finale si alza la posta sull'ospedale unico area vasta verso la conta dei sindaci il primo cittadino di fano vuol far saltare il banco mentre a centro pagina il per il turismo le marche tornano unite obiettivo strategia comune il progetto della regione dopo il terremoto e testimonial della cultura per contrastare la fuga di turisti mentre il cratere si allarga l'area dichiarata off limits allora adesso le due pagine invece che riguardano l'ospedale ecco qua sul corriere adriatico conferenza a porte aperte non c'è nulla da coprire la richiesta dei sindaci del patto di piagge che si è riunito ieri in 13 contro l'ospedale unico ricci e seri all'ultimo round area vasta ad alta tensione il sindaco di pesaro conta sul sostegno dei 30 ma i numeri sono stretti il collega fanese prova a far saltare il banco savelli di noi città dice forse non è ceriscioli il governatore ma qualcun altro da fano l'out out del socialista rapa alla regione abbandonare l'algoritmo prima che si incriminino i rapporti politici a più livelli sulla pagina di fanno del corriere fusione aset passa la delibera i sindacati critici serviva altro il consiglio approvato con cinque voti contrari tra questi anche severi di noi città la giunta aveva preferito ricorrere ad un'altra consulenza rispetto al parere dell'advisor museo civico restyling per la sezione archeologica compromesso con ancona dopo il pressing del movimento 5 stelle operazione da 15 mila euro strade più sicure più sicurezza sulle strade il comune fa il ritocchino dopo il ripasso per le ciclabili la segnalettica i lavori necessari però creano lunghe file ma insomma bisognerà portare anche pazienza definitivi definiti gli attraversamenti e le strisce in via palazzi via kennedy via papiria via paleotta e modigliani qualità ma non comunicazione slow food tacchi indica la strada il fiduciario analizza il territorio serve maggiore consapevolezza nei clienti e poi sotto la rivincita del beach tennis volley e biliardo ricevuti in comune i campioni di discipline che hanno pochi riflettori e poca attenzione andiamo sulla pagina della fanno della scusate valle del cesano fusione a freddo consensi e veleni no accolle al metauro basta giochi dopo voto dopo il voto terre rovedesche blindata movimento 5 stelle avverte saltare a serongarina e montemaggiore i pentastellati dicono se si scavalca platealmente la volontà popolare noi ci opponiamo protezione civile autofinanziamento e unione si lavora per arrivare ad un solo gruppo operativo tra san giorgio e il comune di orciano statuto comunale siamo a mondolfo si cambia entra il consigliere delegato mondolfo tra le novità anche l'ingresso dei bambini 30 giorni per le osservazioni critica l'opposizione la maggioranza dice ai numeri ma nessun margine per i cambiamenti andiamo ancora avanti dalla pagina di urbino santuario del sacro cuore di gesù un convegno e il completamento domani c'è una tavola rotonda sull'imponente opera voluta da donelia a castacolo dunque con il patrocinio dell'arcidiocesi di urbino domani nell'aula rossa di palazzo battiferri alle 9.30 dalle 9.30 del mattino alle 12.30 con ingresso libero si terrà l'attesissimo convegno che prende il titolo di a urbino l'inedito dialogo fra esegesi biblica ed esperienza il santuario del sacro cuore di gesù ed è il sacro cuore di gesù questo edificio vedete questo edificio religioso che si trova a pochi chilometri dal centro di urbino che sarà a tutti gli effetti un grande centro di spiritualità come san giovanni rotondo come loreto e addirittura come l'urde ebbene sì forse in questo momento a molti non dirà nulla molti lo conoscono però questo è il destino di questo santuario voluto direttamente da gesù per me per per tramite di donelia bellebone cosa dice il vescovo l'arcivescovo di urbino questo luogo è come un messaggio di misericordia l'ultima pagina andiamo su senigallia eccola qua senigallia blitz della polizia al campus giovane pusher tenta la fuga in tasca aveva hashish pronto in dosi lo shock dei genitori in commissariato che probabilmente non sapevano nulla dell'attività del figlio era con un gruppo di ragazzini nel piazzale piazzale kent dopo poco distante dalle scuole trovano i ladri nel giardino invece li mettono in fuga shock per due coniugi in una villetta isolata nei pressi di marzocca siamo sempre vicino a senigallia poi la pagina di pesaro invece e provincia anziano smemorato e senza patente va a zizzag gincana in autostrada con un camion da ravenna a pesaro zizzagando l'intervento della polstrada evita il peggio il settantenne era scomparso da casa e ha detto agli agenti devo andare a buttare la spazzatura e questa è la notizia con la quale fermiamo ci chiudiamo chiudiamo qui la nostra rassegna stampa vi ringrazio per averci seguito vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento stasera alle 20 e 30 con il telegiornale occhio alla notizia arrivederci alla prossima Grazie a tutti.